...odietta. Categorie, accademia di prima fascia. Settimo posto, accademia di formazione Milanoemi. Sesto posto, con rispettiva donazia Piedone-Dentà. Quinto posto, città di carità, non ce l'ho che a Maria. Quarto posto, città di carità, non ce l'ho che a Maria. Al terzo posto, con il punteggio di 31,60, Vinta e Tassadena, non caraggiata. Preve la differenza elettrica, anzi scusate, preve la differenza regionale per la Giuliano Sardamagro. Al secondo posto, con il punteggio di 31,90, Gimnasio, Gimnasica, Giardino Sombarela. Preve la differenza regionale della sezione elettrica Francesca Doria. E al primo posto, con il punteggio di 34,33, Gimnasio, 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 Gimnasio. Preve la differenza regionale, responsabile della sezione elettrica Angracianci. Non mi mette poi se ci casse dal punto, ma andiamo dal posto a un'unione forte applauso. Non mi mette poi se ci casse dal punto, ma andiamo dal posto a un'unione forte applauso.